si va nel suo campo nella rissa ora cosa vuol fare trema il training center sgambetto russo sul muro abbiamo visto in seria difficoltà quel muro e qui però Merak non perde tempo si è avventato sull'angolo più alto si jeep ha tolto il cuscinetto si lo vediamo chiaramente ha tolto il cuscinetto stavo dicendo Bob precedentemente che Hard Rock ha tanta fiducia in Merak e stavo per dire forse troppa vedi non lo accompagna nemmeno al ring però Merak in realtà guarda qua prende a pugni il barone nero prende a pugni la metà dei campioni di coppia mai sconfitti perché ricordiamolo è una cosa importantissima a Just Fight loro non sono stati schienati no 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 è vero hanno perso i titoli ma non sono mai stati schienati però se posso farti te puoi farmi quello che vuoi ma qui Merak Ivan Lacroaglia ha fatto un male cane esatto volevo dire che Merak ha la mano sinistra fuori uso jeep sta tirando i pugni solo con la ah ancora solo con la mano destra e allora lo vediamo chiaramente qui è uno schienamento intanto uno due solo due lo vediamo chiaramente che questa è una tattica di emergenza lo sappiamo lui picchiatore rissaiolo veramente come un'altra cosa molto importante perché con la sconfitta con la perdita dei titoli di coppia non la fai ancora salto attenzione qui Mituk Mituk schienamento uno due e soltanto lui ancora dopo il Mituk di Merak che qui iniziano i nervosizi eh beh essenzialmente la sua manovra è migliore e la prova è resistito di fatto va diretto di nuovo lì ma via beyond that e finisce uno due no non è finita non è finita manchi di rispetto al barone nero e allora te le faccio proprio tutte di terror modificata per fare ancora più male alla mano guarda qua che Gib mi sta facendo male a me e Merak cede a me a me a me Grazie a tutti